Sono Susi, siamo qui dal notaio, abbiamo firmato l'atto dell'acquisto della nostra prima casa. Grazie a Vitali, ad Andrea. Come siete venuti a conoscenza di Vitali Immobiliare? Grazie ad Amici. Ad Amici. Anche loro avevano acquistato? Sì, avevano già acquistato presso l'agenzia. Oggi proprietari di una prima casa. Emozionati? Tantissimo. Ragazzi, io vi auguro un grosso in bocca al lupo per il futuro e grazie di essere passati da me. Grazie a te. Ciao. Vitali Immobiliare. Tutta un'altra agenzia.